è la numero due ma è giovanissimo astro nascente per la scuola romena in campo femminile medaglia di bronzo agli europei di Nantes ieri nel programma obbligatorio solo settima qual è stato l'attrezzo che l'ha penalizzata di più che quindi l'ha relegata a questo punto dell'agrolatoria dunque anche ieri come in altre occasioni questa ginnasta pur essendo una ginnasta di grandissimo talento con capacità espressive elevatissime però è abbastanza discontinua ogni tanto sbaglia ha raccolto molto poco rispetto alla ginnastica che normalmente esprime ieri ad esempio la trave l'ha penalizzata nel programma obbligatorio ha avuto una veramente inaspettata caduta e a questi livelli una caduta alla trave equivale a mezzo punto e mezzo punto vuol dire passare tranquillamente dalle prime posizioni di classifica al quindicesimo, diciassettesimo, anche ventesimo posto qui abbiamo avuto 14 ginnaste che hanno fatto i 39 punti ieri negli obbligatori perciò un livello altissimo grazie a tutti Grazie.